Facundo Lescano, da oggi sei un giocatore della Robur, quali sono le tue impressioni per questa nuova avventura? No, innanzitutto sono molto contento di stare qua, ringrazio il Parma e anche il Siena di aver fatto questa scelta perché è una grandissima squadra, una bellissima città che ho potuto subito vedere e quindi oggi già ho iniziato a conoscere i miei compagni e sono contento di aver firmato qui a Siena. Quali sono le tue caratteristiche e qual è la tua carriera, insomma hai investito già maglie importanti a partire dalla primavera del Genoa, poi sei passato dal Torino e poi esperienze importanti in Serie C e anche in Serie V da Scorzonare. Sì, sì, ho iniziato a Genoa, poi a Torino ho fatto un anno in cui ho fatto un risorto in Serie A, abbiamo avuto il campionato, è andato bene, poi l'anno dopo c'era l'opportunità di andare all'estero però in Torino ho preferito lasciarmi qui in Lega Pro a fare dell'esperienza, le cose sono andate normali e poi l'anno scorso ho fatto una scelta rischiosa per andare in Serie V in Sicilia, è andata bene e il Parma ha deciso di farmi questo contratto triennale, quindi sono qua a Siena per dimostrare e per fare bene insieme a tutti gli altri compagni. L'ultima battuta, arrivi qua credo anche con un bel consiglio da parte di Emanuele Calaiò e poi chiaramente anche il direttore sportivo Daniele Faggiano. Sì, sì, come dicevo prima anche Calaiò subito, quando ho saputo che c'era l'opportunità mi ha subito consigliato, mi ha detto vai che è una bella città, una grande squadra e io mi sono trovato benissimo, anche se lui tanti anni fa era qui e lui anche il direttore stesso ha premuto per farmi venire qui a Siena quindi loro ne parlano benissimo, anche loro e vediamo, spero di non deluderli.